Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Snowman Italia e oggi siamo su un gioco, non proprio Clash Royale ma una specie di Clash Royale ragazzi l'ho scaricato ed è bellissimo ragazzi se volete anche lo store mia di Aptoide che troverete questo gioco si chiama Slendy069Store ve lo scriverò anche qui con un editor ci andremo ad aprire, non so quanto è super magico il cesto la prima 1404 d'oro 26 cavalli che schifo che schifo, frecce, arcieri si vabbè ce li avevo, ce li avevo va ragazzi no va ragazzi se mi esce il pecca io urlo vai, vai con la seconda tutti i comuni, alcune è epica ragazzi come lagga un pochino questo gioco secondo me abbiamo finito proprio 1685 questo ci ne avevo, 1800 abbiamo un po' quelli di argento aspetta ragazzi 1800, ci abbiamo l'ultima guarda ragazzi con 1800 preciso andiamo 1440 d'oro 12 valchiri rare 20 cavaliere comuni 17 goblin una lighting una lighting 4 scheletonarmi ah che schifo va bene bene ragazzi è rimasto l'ultima carta non la volevo sta carta ragazzi ecco il mio deck però ma se guardate quante carte ci sono ancora da sbloccare io voglio il pecca ragazzi il pecca ma il pecca è una cosa over 9000 questo è il mio deck ragazzi se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace e ci vediamo al prossimo video buongiorno